La conferenza dei capigruppo di ieri ha siglato una sorta di cronoprogramma per la questione delle nomine. Il prossimo 6 novembre ci saranno i decreti per l'assegnazione delle nomine negli enti strumentali della regione Abruzzo, ma ormai la quadra sembra essere stata trovata. Tra Fratelli d'Italia, Forza Italia Lega, pare essere tornato il sereno e quindi il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, potrà firmare. La spartizione delle poltrone però è rimandata. Il Consiglio di oggi è stato solo per la nomina dei garanti dei detenuti e per l'elezione dei componenti della Commissione pari opportunità. Il leader del centro-sinistra, Luciano D'Amico, ieri ha già dichiarato a Riteotto che loro hanno già pronta la lista dei 14 nomi da inserire nei CDA che svolgeranno funzioni di controllo. In maggioranza, in realtà, qualche partita si giocherà ancora. Qualche nome è filtrato, la conferma di Lattanzio all'Ater di Pescara e alla Gualtiera e al Lazio di Pescara Chieti. Nomi di Forza Italia sul fronte Lega c'è il nome di Francesca Persia nel CDA dell'Ater di Teramo, ma la torta è molto ampia. I nomi da consegnare al presidente Sospiri sono 40. Le cose sono da fare, però credo che insieme con i capi gruppo di maggioranza ed in particolare con il capo gruppo Verrecchia con cui stiamo discutendo appunto di questo, nell'arco di poco tempo saremo in grado di ascoltare le opposizioni, settare le terne con le presenze di generi opposti e offrire una buona classe dirigente all'Abruzzo in grado di governare e risolvere i tanti problemi che abbiamo nei vari settori di nostra nomina. Devo dire che nella passata legislatura, perlomeno il mio giudizio è stato positivo sulla sta grande maggioranza di essi. È chiaro che sono talmente tanti problemi che anche la ricerca dei migliori curricula è un dato che noi dobbiamo agli abruzzesi, ma lo faremo anche perché il presidente Marsiglio è particolarmente attento su questo tipo di scelta, quindi non c'è possibilità di errore. Ovviamente anche le opposizioni dovranno contribuire a fare con me le scelte migliori, non è solo una competenza di maggioranza, è anche una competenza delle opposizioni.